Non si arresta la crisi del settore artigiano in Sardegna che anche nel 2016 ha fatto registrare la scomparsa di 541 aziende, l'1,5 e meno rispetto al 2015, 6.672 e meno rispetto al 2008, anno del massimo storico. Il dato emerge dal saldo tra le 1.674 iscrizioni e le 2.215 cessazioni. I dati sono stati diffusi da nuove imprese Union Camere ed elaborati dalla Confartigianato Imprese Sardegna. Scendendo nel dettaglio a livello provinciale la situazione è pesante a Cagliari con un saldo di meno 196 imprese, seguita da Sassari con meno 168 e Nuoro con meno 144, Oristano invece si attesta a un meno 63. Ad incidere sui numeri negativi in Sardegna la situazione del comparto edile che ha visto un calo del 2,1% e meno 297 imprese, più della metà del totale. In difficoltà anche il settore è manufatturiero. Il dato sardo è in linea con quello nazionale. È passato un altro anno di calo anziché della auspicata ripresa, in Sardegna mancano l'appello. Altre 541 imprese artigiane, sottolinea in una nota la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Carmela Folchetti. Per trovare una platea di imprese così esigua nel nostro territorio bisogna tornare indietro agli anni 90. Il dato di un'inversione di tendenza che abbiamo segnalato alla fine del terzo trimestre 2016, continua la Folchetti, purtroppo si è rivelato troppo debole per trascinare una ripresa che potesse coinvolgere l'intero anno. Sull'incentivazione delle aziende, conclude la Confartigianato Sardegna, l'associazione ricorda la necessità alla regione di bandi per le microimprese, il T0 con voucher destinati agli investimenti fino a 15.000 euro già deliberati dalla Giunta ma di cui non si vede ancora a traccia.